Vi ringrazio di questa opportunità. La mia è una riflessione che nasce da alcuni contributi che sono stati dati da personalità che sono state coinvolte in questa sessione. Intanto iniziamo con un parallelo, potremmo dire somiglianze e asimmetrie tra quanto contenuto nell'appello di Don Luigi Sturzo e quanto viviamo oggi. Possiamo dire che rispetto ai momenti storici, quanto a territorio, sviluppo, ambiente, c'è una profonda differenza. Non sono evidentemente né sovrapponibili né paragonabili, sarebbe un artificio provare a creare dei parallelismi tra questi due momenti. Quello che invece in questo momento sembra un po' riecheggiare quel momento storico è il momento di un grande cambiamento. Lì il cambiamento era legato al fatto che si veniva dalla Prima Guerra Mondiale, le campagne avevano subito una metamorfosi dovuta a un abbandono legato a quel periodo bellico. Si cominciava a ricostruire e c'era effettivamente un anelito davanti a tante cose che stavano cambiando, in meglio, in peggio. Poi la storia in questo senso ci ha segnalato che sarebbe stato in peggio l'esito del ventennio. Ma la prima fase c'era una speranza. Oggi siamo davanti a una situazione di profondo cambiamento. Pensate soltanto al grande tema delle tecnologie, come oggettivamente influenza nel mondo dello sviluppo economico. Se pensiamo che i redditi maggiori, i fatturati maggiori, ormai le fanno le industrie del web, le industrie legate alle tecnologie avanzate. Non più il manifatturiero, non più l'acciaio, ma tutto il comparto tecnologico fa i prodotti interni lordi di paesi della terra. Questa è una novità, questa è una grande trasformazione. Dall'altro lato il tema dell'ambiente, dell'ecologia. E anche in questo, Papa Francesco lo ha segnalato subito, c'è evidentemente un'attenzione che occorre porre perché è come se il pianeta fosse saturo di tante attività umane, anche legate all'industrializzazione, tra l'altro. Un altro elemento molto interessante è quando Sturso chiama il problema del mezzogiorno, la necessità di una risoluzione nazionale. Nazionale è una parola che avevamo abbandonato da un po' di decenni. Poi adesso è tornata, difficilmente noi dicevamo fino a una manciata di mesi fa, la nazione italiana. Oggi è ritornata in un senso con l'ismo, quindi in un senso di enfasi dietro questo tentativo di porre delle barriere. Però qui l'elemento è l'impegno nazionale per il mezzogiorno, per il sud dell'Italia. Ecco qui c'è stato oggettivamente un fallimento storico, perché certo che l'impegno c'è stato, ci mancherebbe altro. Ma è sempre stato un impegno diviso per strati. La cassa del mezzogiorno, una serie di agenzie. Tant'è vero che il divario è aumentato, non è diminuito tra il nord e il sud. E cioè non è stato sentito l'impegno del mezzogiorno come un impegno di tutta la collettività italiana. Anche di chi non vive nel mezzogiorno. E questo evidentemente sarebbe dovuto essere la classe dirigente a sentire quel tipo di impegno. E su questo quel richiamo di Sturzo certamente non è stato accolto in questo secolo. Perché abbiamo, il tema lui richiama anche i servizi generali e locali, abbiamo delle punte d'eccellenza anche nel sud dell'Italia. Ma non c'è dubbio che se andiamo a vedere la media dei servizi, parlo soprattutto dei servizi pubblici locali, c'è viceversa una omogeneità di standard qualitativi buoni nel nord Italia e in una parte del centro Italia e come media viceversa uno standard piuttosto scadenti invece nel sud dell'Italia. E questo anche è sempre legato a questa diversificazione. Papa Francesco nella sua lettera enciclica Laudato Si ci indica intanto la necessità di una presa di coscienza che è la stessa di Sturzo, perché lui a questo stava reclamando. Ecco, la presa di coscienza è come attraversare un deserto. Forse noi siamo ancora dentro questo deserto e chissà ancora quanto dura, e per certi versi forse è anche un bene che possa durare tanto. Perché la presa di coscienza è decisiva, perché se invece l'impegno è affrettato, è legato a contingenze, è legato ad ambizioni, inevitabilmente è un impegno effimero, che poi al dunque non fa l'interesse collettivo. Allora, la presa di coscienza, perché non sia una presa di coscienza solo individuale, occorre che sia condivisa, che sia metabolizzata, che abbia i suoi tempi. E questa è la chiave, Papa Francesco nella lettera enciclica Laudato Si, e l'appello dei liberi e forti, quando c'è il richiamo ai cattolici, di cominciare a valutare anche scelte economiche, è strettamente legato anche a una presa di coscienza non solo individuale, ma anche condivisa. Altro aspetto che ci diversifica molto, la manipolazione dell'informazione nel campo dell'economia. E questo è un punto nevralgico, perché le decisioni economiche oggi vengono prese con una lettura che non è sempre oggettiva, ma è strettamente collegata agli interessi degli attori in campo. Tanto più che si utilizzano gli strumenti tecnologici, le cosiddette fake news, e cioè a dire che nel momento in cui la gestione del potere tecnologico e anche la comunicazione, io ho tre figli adolescenti e vivono non di televisione, non la vedono, non sanno neanche cosa sia, per farvi comprendere come molti di voi sanno, ma vivono tutto con il loro palmare, con il web, e lì le informazioni sono deformate, perché sono informazioni legate sempre ad un attore economico, sempre, perché chi fa quel tipo di informazione è legato a un business. E quel tipo di informazione è strettamente legato a una visione economica di un ritorno a livello di industrie multinazionali che stanno dietro quel tipo di informazione. Questo passaggio della manipolazione dell'informazione, che evidentemente era meno marcato all'epoca di Don Luigi Sturzo, oggi invece è decisivo per interpretare il fenomeno economico e anche lo sviluppo possibile e le soluzioni. C'è una parola che spesso utilizziamo nel nostro mondo, che è un po' una parola magica, l'economia civile, nelle appunti che mi sono pervenuti c'è questo richiamo. Dico che è una parola magica perché il tema dell'economia civile, che è meraviglioso, perché significa che c'è un'economia orizzontale di solidarietà tra la cittadinanza, non solo legata al profitto, ma certo che ci vuole il profitto, altrimenti nessuno lavorerebbe, ma che c'è una quota che invece va alla compartecipazione per la crescita umana e spirituale delle persone più fragili, di quelli che da soli non ce la farebbero. Ma è perdente se non diventa un modello reale. Cioè se si limita ad essere, esempio a macchia di leopardo, per dire quanto siamo bravi e buoni, ma non è il modello su cui si muove il governo della cosa pubblica, è fallimentare perché ci si mette all'angolo, diventa autoreferenziali, si ritiene che questi siano modelli meravigliosi e che gli altri non colgono perché evidentemente non sono sensibili, sbagliano loro. No, no, no. Se questo modello non è accolto è perché non siamo ancora riusciti ad affinare quegli elementi per farli percepire come decisivi per la crescita della società. E questo è un po' il rimprovero che facciamo a tutti noi, perché altrimenti diventa anche autoreferenziale il modello che andiamo a descrivere. Quindi economia civile come modello reale, che possa essere contagioso e possa diventare un modello di sistema. Il tema di fondo che era presente in Don Luigi Sturzo ed è presente un po' in tutta la nostra filone, il nostro filone di impegno di credenti anche nella vita politica, e la politica, l'impegno come servizio. Attenzione, qui veramente Papa Francesco è radicale. Ci dice, sì, ma se c'è discontinuità. E cioè a dire, non basta dire che la classe dirigente deve porre la politica come servizio. Occorre che quelli che hanno devastato l'ambiente si facciano da parte, perché altrimenti, se è sufficiente dire che si cambia il metodo, ma i soggetti rimangono gli stessi, il metodo apparentemente si cambia, ma inevitabilmente si ritorna nella politica come potere. Qui Papa Francesco è molto duro. Coloro che hanno saccheggiato l'ambiente, che hanno impoverito popoli e nazioni, che hanno provocato guerre e disuguaglianze, come possono guidare il cambiamento? C'è bisogno di un elemento di rottura, di discontinuità. Qui ci vuole anche coraggio, perché talvolta per entrare nei mondi che contano vengono chiesti un po' di compromessi. E allora uno comincia a ragionare, beh, in fondo io darò un bel contributo, alto, pieno di spirito di carità, e quindi è bene che scenda a matti con chi oggi ha le leve del potere, però non si sta seguendo lo schema di Papa Francesco, perché si sta portando acqua al mulino di chi invece, in parte, ha devastato il pianeta. Allora questo è un profilo importante. Per questo il momento della presa di coscienza potrebbe durare anche molto, perché poi non dipende da noi, dipende da quando storicamente è possibile recuperare un impegno che possa portare oggettivamente a quella frattura, a quel cambio di rotta. Cioè le buone prassi devono essere incarnate. Perché il sociale possa diventare economia c'è l'aspetto che qui è presente ed è presente anche in queste tre giorni, che è quello delle competenze. La debolezza oggi della classe dirigente di tutti i colori politici è che non ha più intorno competenze. Un tempo ce l'aveva, facciamo attenzione. Un tempo c'erano fortissime competenze che ruotavano intorno ai luoghi di formazione del consenso. I partiti politici, i movimenti, e poi c'erano, la DC aveva i professorini, il Partito Comunista aveva tutta quell'intelligenza legata a un mondo anche scientificamente molto attrezzato, pensate ai repubblicani, i liberali, premi Nobel, c'era. E quindi quando la persona più capace nel dialogo con la popolazione, con l'elettorato, poi aveva una carica pubblica immediatamente intorno aveva un cordone di tecnici politici, perché condividevano evidentemente quell'idea, che erano molto bravi. Oggi non c'è più questo cordone di tecnici. È un elemento di debolezza per la classe dirigente, è un elemento di straordinaria forza per chi vuole portare delle idee all'interno della politica. Perché essendo assetata di competenze, le competenze non sono mai neutre. Non è vero che i tecnici danno soluzioni avulse dal contesto e dal loro pensiero. Sono sempre, dietro c'è un criterio, c'è una linea, c'è un principio. E nel momento in cui c'è quell'assenza è molto più facile permeare le scelte del decisore arrivandoci con delle competenze, con dei principi, con delle soluzioni. E quelle soluzioni, proprio perché non se ne trovano altre, vengono accolte, talvolta anche in modo acritico, pur di dare una risposta al governo che in quel momento si sta incarnando. Questo è un passaggio importante, perché implica che una strada potrebbe anche essere quella di offrire competenze alla classe dirigente, ancorché potrebbe non essere in condivisione ideale con tanti aspetti, ma che tuttavia non può fare a meno di quelle competenze e quindi poi un po' a scatola chiusa le deve prendere con tutti i riflessi che ci sono, perché se evidentemente si offre un progetto che ha una sua tenuta tecnica deve essere preso nella sua interezza, altrimenti quel progetto poi non ha un esito. E questa è una chiave molto interessante. Nel mio piccolo con Scienze e Vita noi se i temi della bioetica lo stiamo vedendo. Adesso c'è tutto un tema enorme che riguarda l'eutanasia e a un certo punto portando continui disegni di legge e disegni di legge, da ultimo è venuto fuori che adesso le forze parlamentari, grazie al cielo, sono tutte contrarie all'eutanasia, nonostante la Corte Costituzionale abbia indicato quello. Perché c'è testi con un inizio e una fine con la ricaduta su certi articoli del codice e quindi come se fosse un pacchetto lo si prende, lo condivide, poi è ovvio che questo è un tema talmente dirompente che non finisce qui, però è un po' l'esempio di come certe volte c'è una sete di soluzioni tecniche e quindi il sociale torna a essere protagonista si è accompagnato da strette e forti rigorose competenze tecniche per le soluzioni dei problemi economici e in questo senso anche legate all'ambiente. Altro aspetto molto presente nell'appello di Don Luigi Sturzo è quello della testimonianza. È verissimo, soprattutto i più giovani vogliono persone credibili per certi versi anche persone credibili cattive anche cattive cioè sono più affascinati dalle persone che hanno una loro coerenza spietata da quello che vive di ambiguità. Parlo di giovani talvolta non formatiche quindi si lasciano anche forviare ma vogliono proposte radicali radicali e pensate quanto è bello dare una proposta radicale di testimonianza incarnata che diventa un esempio positivo, virtuoso bello e ormai lo sappiamo anche nelle nostre parrocchie nelle chiese nei movimenti nelle associazioni del cattolicesimo tanto più ci sono testimonianze forti fedeli al Vangelo tanto più c'è intorno giovani che si avvicinano tanto meno ci sono tanto più sfuggono perché non trovano elementi di novità di originalità di impegno di richiamo e il passaggio della testimonianza e qui si apre uno squarcio diciamo così verso il cielo è strettamente legato all'elemento della trascendenza certamente la laicità dell'impegno politico soprattutto nelle cose economiche e dell'ambiente è di dialogo con tutti con il linguaggio di tutti ma ciascuno al suo interno ha questa potremmo dire marcia in più di riuscire ad aprire un dialogo verso il cielo che gli dà ossigeno che gli dà anche chiarezza che gli dà la possibilità di bello quello che hai letto tu il messaggio del Papa e Don Luigi che a un certo punto dice io ho dovuto ghiottire tanti bocconi amari eppure la sua vita è un capolavoro perché lui ce l'aveva questo elemento della trascendenza e quei bocconi amari umanamente certo che lo sono ma non lo sono agli occhi di chi poi davvero conta anzi quelli sono l'elemento che fa la differenza con gli altri allora questo della testimonianza della testimonianza e della trascendenza è decisivo e nel tema economico diventa decisivo rispetto ai corpi intermedi e cioè tutto il tema del sociale che quel modello diventi virtuoso contagioso e che quella testimonianza che certo è soprattutto individuale perché poi ognuno di noi è diverso dagli altri possa diventare una testimonianza regata a un corpo intermedio a un gruppo a una realtà e cioè chi entra si affaccia si avvicina a un gruppo che si sta impegnando per ridisegnare l'economia in Europa per trovare il problema dell'immigrazione alcune soluzioni compatibili con il bene comune e chi si avvicina a quei gruppi si sente a casa sua si sente accolto si sente subito con intorno persone che non lo guardano con diffidenza ma immediatamente recepiscono anche idee che magari potrebbero non collimare con quelle che uno esprime questa è la testimonianza incarnata anche nei corpi intermedi e non soltanto a livello individuale perché altrimenti rimane un passaggio ottimo per la santificazione personale ma meno efficace invece per il cambiamento in una fase di grande trasformazione come questa in qualche modo ci deve essere una trascendenza anche dei corpi intermedi non soltanto una trascendenza dei singoli componenti di questi corpi intermedi questa trama un po' faticosa che vi ho descritto effettivamente è frutto di varie riflessioni e diciamo in chiave finale ci sono diciamo due profili che occorre mettere nell'orizzonte dell'impegno io uno lo chiamerei la solidarietà europea e cioè tutti i progetti che potremmo mettere in piedi soprattutto di stampo economico non possono prescindere da una lettura europea potremmo dire anche globale ma intanto accontentiamoci di quella europea e cioè inevitabilmente l'economia è strettamente legata intanto ai paesi che abbiamo intorno e poi anche ai grandi paesi che hanno degli sviluppi innovazioni profondamente significativi e allora quando parlo di solidarietà significa anche che la proposta che arriva verso l'Europa deve essere una proposta anche italiana ma attenta a trovare solidarietà dal resto dell'Europa a dire non ci si può mettere all'angolo non ci si può nascondere non si può pensare di superare il pensiero economico della Germania della Francia della Spagna in qualche modo del Regno Unito che sta uscendo e tra poco formalizza definitivamente ma la decisione è già stata presa perché siamo una debolezza e questo reclama una compartecipazione anche con molto coraggio l'altro tema che riguarda invece l'ambiente è potremmo dire una sorta di intangibilità del bene ambientale quando si parla di sostenibilità e spesso la sostenibilità lo siamo anche in chiave economica per verificare che tutto funzioni rispetto ai conti dello Stato rispetto alla tassazione dei cittadini rispetto agli investimenti pubblici c'è la sostenibilità che riguarda invece la compatibilità con l'ambiente che deve partire da un principio che quella patrimonio meraviglioso che abbiamo universale ambientale è intangibile ma intangibile non perché non possa essere sfruttato ma perché tutti lo devono sfruttare e perché tutti lo debbano sfruttare vuol dire che nessuno lo può fare proprio questa è la logica dell'ambiente per sfruttarlo tutti i 7 miliardi che siamo nel mondo nessuno può lucrarci sopra in chiave univoca perché inevitabilmente ce ne saranno tanti altri che restano fuori e quindi il preservarlo significa garantire all'intero consorzio umano il suo futuro e non è indifferente questo aspetto perché siamo davanti a quel punto una dinamica dove tutte le scelte economiche devono prendere come punto fermo l'intangibilità del patrimonio ambientale non ci possono essere deviazioni non ci possono essere debolezze fragilità davanti a questo aspetto e cioè è come una barriera e poi punto si decide dentro questo scenario quali sono le soluzioni economiche appunto compatibili se si cede su questo si arriva in parte come siamo arrivati tanto che un papa è stato costretto a scrivere una lettera enciclica è stato costretto a scrivere una lettera enciclica perché evidentemente se interviene il papa vuol dire che tanti altri che dovevano intervenire prima non sono intervenuti è un'enciclica politica non è un'enciclica così il magistero è un'enciclica politica che riguarda tutta l'umanità non riguarda solo i credenti tanto è vero che viene eletta anche da persone che hanno credo religioso diverso e quindi quando il papa si fa politico vuol dire che sono saltati tutti gli argini della mediazione tipica di chi invece da laico dovrebbe farsi politico e questo è il campanello d'allarme perché se il documento più significativo oggi è una lettera enciclica del papa significa che tutti gli organismi chiamiamoli corpi intermedi internazionali dall'ONU l'organizzazione dello sviluppo economico della cooperazione sono saltati tutti più che altro erano appunto divisi in quanto all'interno c'erano alcuni interessi che non corrispondevano a quell'intangibilità dell'ambiente ma viceversa lo avevano fatto proprio per uno diciamo così legittimo in chiave egoistica di sviluppo del proprio stato della propria nazione ma evidentemente illegittimo in chiave invece di sistema e questo è il profilo che in questa india di sviluppo ambiente mi interessa ricordare anche in chiave finale vi ringrazio abbiamo una possibilità pregare insieme non vedo altre strade pregare insieme poi l'illuminazione arriva e magari non saremo neanche noi i protagonisti però bisogna pregare insieme questa è la chiave con cui riusciamo a non essere consumatori a non essere letti come consumatori recuperiamo la dignità la preghiera ci dà dignità ci rende agli occhi degli altri credibili testimoni anche quelli che non credono perché quando uno vede una persona che ce l'ha lo sguardo verso l'alto lo rispetta lo rispetta sempre e non lo tratta da consumatore non ce la fa trattarlo di consumatore ne avrebbe meno pure la dignità di quello che giudica l'altro l'abc è questo poi ragioneremo creeremo il movimento dei cittadini contro le multinazionali faremo le grandi battaglie ma tanto se non c'è questo lievito hanno tutte le armi spuntate queste battaglie non funzionano perché arriverà il momento in cui anche noi ci faremo sfruttatori di altri consumatori perché dovremo portare a casa un predito piccolo grande che sia che ci dà da mangiare a noi e alla nostra famiglia allora l'unico modo per trovare equilibrio perché alla fine è un discorso di equilibrio di serenità di riuscire a vivere la propria vita incoerenza e avere una è come aggrapparsi a qualcosa questo tra di noi ce lo dobbiamo dire non ci sono altre chiavi ma l'oligisturso questo ci ha sempre detto sempre guardate verso l'alto e poi i carteggi con De Gasperi sono meravigliosi in questo senso si parlavano delle vicende anche familiari personali quella era ed erano uno statista un fondatore e insomma nel novecento Sturzo e De Gasperi e altri eroici ma Sturzo e De Gasperi sono nell'Olimpo diciamo così del pensiero cristiano impegnato in politica eppure la loro vita era legata alla dimensione trascendente che tra l'altro nel caso poi di De Gasperi non la facevano mica vedere nel senso non è che la sbandieravano come se in quel momento magari poteva essere pur comodo sbandierarla in certi momenti storici allora la risposta è che per non essere trattati da consumatori occorre recuperare dignità chi chi crede la dignità la recupera sul piano culturale sul piano della battaglia sul piano della militanza sul piano delle idee sul piano del confronto personaggi straordinari non credenti che fanno quelle battaglie noi pure ma abbiamo quel pezzetto che ci dà l'equilibrio e sfortiamolo quel pezzetto della preghiera del momento trascendente perché quello è il passaggio perché se invece partiamo solo in senso orizzontale non siamo consumatori perché noi in realtà abbiamo i nostri diritti inviolabili non puoi continuamente bombardarmi di richieste quando in realtà oppure fare come l'amico della Coldiretti che invece racconta la vita del prodotto e probabilmente la racconta non pensando che magari poi ci guadagnerà di più perché questo è un volano quando andranno a comprare quel prodotto anche se nel momento non lo comprano ma proprio per il piacere di raccontare immagino sia un carattere un indole una persona che si mette in gioco anche qui io farei anche attenzione a non usare il discorso etico a fini utilitaristici noi troppo spesso abbiamo sentito parlare di come l'etica in fondo poi aiuta anche l'impresa perché dà trasparenza conquista appunto i consumatori e alla fine sempre lì si va a cascare cioè non è che se c'è più etica allora io sono più competitivo o meglio non è che io devo utilizzare l'etica per essere più competitivo bisogna scindere questi due aspetti perché altrimenti inevitabilmente anche noi entriamo nella dinamica del consumatore e guardate che mica è facile perché ecco tu hai fatto l'esempio anche dentro il mondo dei mezzi di comunicazione dove certo che le testate della CEI si sono rinnovate moltissimo stanno facendo anche pubblicità cercano di entrare sul mercato ma poi tenere l'equilibrio tra le due cose è complicatissimo perché uno magari in prima serata potrebbe mandare un film che è riuscito ad acquistare i diritti miracolosamente perché insomma la concorrenza è forte e magari quel giorno invece c'è una cosa che da un punto di vista formativo è importante c'è una bella omelia e lì si trova a fare che facciamo mandiamo l'omelia che magari ha qualche spettatore in meno ma va in profondità o mandiamo il film che abbiamo comprato e strappato alle multinazionali dei broadcaster mica è facile quella decisione quando stai che mandando magari il film fai audience e quindi poi anche tutti quelli che lavorano sono contenti è difficilissimo quel tipo di scelta è difficilissima e io ritengo che non ci sono altri strumenti se non l'elemento trascendente non ci voglio non ci sono infingimenti nell'ottica poi anche orizzontale perché poi nel momento in cui ci sono delle strutture comunitarie e grazie al cielo in Italia ce ne sono tante c'è anche la correzione fraterna che è formidabile perché si dice sempre anche chi si impegna nei campi professionali dell'economia della politica cerca di farlo in chiavetica non può andare mai da solo perché da solo vieni schiacciato perché con tutte le nostre pochezze inevitabilmente ma se siamo in due siamo in tre siamo in quattro inevitabilmente c'è quello che ti prende sotto braccio e ti dice ma scusa ti ricordi ieri che ci siamo visti abbiamo parlato di questo adesso subito questo compromesso è un metodo è un metodo per non essere consumatori per non essere trattati da consumatori e non trattare gli altri come consumatori molto corretta questa espressione sbagliata di consumatori a cui siamo assefatti ma che adesso ma che adesso invece soprattutto nel mondo delle telecomunicazioni siamo in una fase di cambiamento perché ci si sta rendendo conto che sempre di più pensate a tutta l'informazione web che in realtà è un'informazione drogata perché è un'informazione che viene selezionata in base a me come consumatore cioè la selezionano perché sanno già presumibilmente quali sono i miei interessi sanno che io privilegio magari lo sport piuttosto che non l'economia e quindi mi ritrovo a un certo punto bombardato di informazione di quel settore perché la consumo di più e quindi faccio viaggiare di più il web faccio più audience e quindi quel tipo di informazione è drogata perché non è completa mi sta dando solo l'informazione che gli è utile per riuscire a fare profitti questo è un tema importantissimo oggi che poi è il tema della trasparenza il tema di riuscire a dare una completezza del panorama informativo quando io e i miei figli li vedo e si accontentano di trovare la notizia su google news ma non per poi cliccare e andare dentro le testate ma perché ci sono quelle quattro righe che già ti dicono cosa è successo è un dramma sociale è un dramma sociale perché significa che quelle quattro righe sono la verità agli occhi di anche persone in formazione e sono la verità nel senso quello è poi se vai invece a investigare a leggerti tutto l'articolo a fare l'approfondimento trovi che ci sono tante cose come quando un titolo dice una cosa e poi il contenuto ne dice un'altra ma quello uno lo scopre piano piano ecco invece i nostri adolescenti gran parte grazie al cielo non tutti si accontentano di quelle quattro righe quelle quattro righe sono oggettivamente drogate perché servono semplicemente per suscitare interesse e tra l'altro per certi versi neanche per rimandarti alla testata perché il lucro te lo fa la piattaforma con quelle quattro righe anzi se tu poi ti sposti sulla testata stai uscendo da quella piattaforma quindi l'interesse di queste piattaforme è darti quattro righe che sono esaustive che ti appagano non ti rinviano se ti rinviano è perché c'è un accordo commerciale con quella testata il quale paga perché si venga rinviati sulla sua testata allora lì ti mettono le prime quattro righe e poi ti dicono se vuoi sapere anzi ti lasciano con la suspense ed entri nell'altra ma perché c'è un accordo commerciale allora siccome tutto ormai è governato da questo occorre davvero avere molto coraggio per non essere trattati come consumatori certamente sull'ottimismo a ragione lei la mia come avrete notato era una sintesi di contributi che viceversa erano piuttosto pessimisti c'è un dato tuttavia che riguarda le malattie le malattie i tumori e cioè lei dice l'epoca di Sturzo si diceva l'ambiente però qui oggi abbiamo delle condizioni che incidono sulla nostra salute a livello globale catastrofiche nel senso ci sono proprio malattie che vengono proprio dal condizionamento ambientale cioè i tumori non esistevano 40 anni 50 anni non c'erano non c'erano non esistevano non era una patologia che esisteva oggi ci sono perché è cambiato l'essere umano dopo milioni di anni e no evidentemente allora questo aspetto bisogna tenerlo ben presente che è vero che si stanno facendo delle cose poi giustamente l'ha detto Trump e poi si è sfilato quindi però bisogna tenere presente anche quali sono poi le condizioni di salute della nostra popolazione le condizioni di salute oggi non sono migliorate in termini di nuove malattie abbiamo debellato grazie alla scienza cose antiche ma ne sono arrivate altre per certi versi ancora più devastanti e che non dipendevano in realtà da patologie che in qualche modo si potevano debellare ma dipendono proprio dalle condizioni ambientali allora qui il pessimismo è proprio legato anche in qualche modo a un discorso efficientista che c'è dietro certe volte sembra quasi che si trascurano dei dati per poi investire in altri dati per curare quando invece si potrebbe prevenire e qui c'è tutto un tema enorme che poi ci porta forse troppo lontano con tutta l'industria farmaceutica con tutti i temi legati anche ai profitti in quegli ambiti cioè certe volte sembra quasi che da un lato il danno viene tollerato poi si fa un investimento per cercare di guarirlo da quel danno invece certe volte bisognerebbe evitare che si arrivasse a questo qui c'è un tema importante sui territori la legalità perché ambiente e legalità vanno insieme e allora è chiaro che se c'è un quadro di legalità c'è anche rispetto per l'ambiente e si fa quella prevenzione e la gente non si avvelena se non c'è quel quadro di legalità inevitabilmente non c'è prevenzione si fa profitto e la gente muore avvelenata questo succede in alcune zone non solo del sud non solo del sud in questo senso è distribuita equamente anche in altri territori allora è importante che ci sia questo legame fra ecologia rispetto dell'ambiente e legalità perché per certi versi non è il tema nostro anche se il tema dello sviluppo lo tocca è il tema dell'immigrazione su cui Salvini ha creato il suo cavallo di battaglia prendendo tantissimi voti ma è proprio perché c'è un quadro di illegalità che chi arriva si trova a un certo punto a inserirsi in un contesto che è indigesto per chi invece rispetta le regole e a un certo punto dice paura timore allontaniamolo e ovviamente il quadro di legalità è fatto di italiani non di stranieri poi loro entrano e si vedono che c'è un po' quell'andazzo e fanno la stessa cosa quindi se si recuperasse invece quel quadro di legalità probabilmente si ammorbiderebbe anche la percezione di queste ondate che arrivano perché è molto diversa la percezione di qualcuno che arriva rispetto alle regole utilizza anche i rapporti come sono consueti tra di noi e invece quello che purtroppo si trova in sacche di illegalità prende lo stesso vizio e quel poco di popolazione 80 di popolazione corretta rabbia è perché i voti da Salvini arrivano pure da tanta brava gente non è che arrivano da aria da gente che è esasperata questo è un elemento importante da tenere presente e l'altro tema sul mezzogiorno la cassa del mezzogiorno che ha portato sviluppo doveva essere però un volano di sviluppo perché l'università di Confindustria non sta nel sud perché 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 il 70% di quell'università è fatta di persone che dal sud vengono a Roma perché è qui che si è capovolto il concetto quell'università doveva stare a Napoli a Palermo a Catania e trattenere i giovani qui dargli le competenze e creare lo sviluppo sul territorio questo è quando non è stato pensiero nazionale e invece si è tollerato che la Bocconi sia a Milano la Luiz sia a Roma e arrivano frotte frotte di giovani che vanno lì un po' per affrancarsi un po' perché gli piace e non è è sbagliato questo modello questo ce ne dobbiamo dire queste cose tra di noi allora se quando si è fatto l'investimento non si voleva fare assistenzialismo bisognava fare poi sviluppo e per fare sviluppo bisognava radicare qui la cultura delle competenze cui ci richiama Sturso perché lui ci chiede le competenze e se invece uno le competenze le va a trafficare altrove poi non torna neanche perché trova sempre le proposte migliori probabilmente e allora era qui che ci doveva essere poi negli anni 80 negli anni 90 il volano cioè fatti quegli investimenti che avevano oggettivamente diminuito il divario e poi bisognava avere la capacità di fare lo sviluppo in autonomia con un'altra casa nel mezzogiorno allora è questo profilo qui che è mancato rispetto a Sturso perché lui quando parla di appello nazionale dice tutti ci dobbiamo fare carico e quindi gli industriali del nord a un certo punto devono venire qua e non essere loro a stare qui a dare gli strumenti perché chi sta qui riesca a fare quella stessa impresa e creare delle competenze oh si va di bene noi ce l'abbiamo delle sacche di competenza meravigliosa anche in Sicilia di centri scientifici altissimi ci mancherebbe altro però ho fatto l'esempio delle due università legate all'industria che sono due alla fine in Italia che non l'hanno aperta invece la sede qui e invece l'avrebbero dovuto aprire e gli studenti vanno tutti lì salgono su e rimangono lì questo è un piccolo esempio di dire come dopo quegli investimenti ci sarebbe dovuto essere un volano di sviluppo che dava la possibilità di creare quella cultura imprenditoriale quella cultura di competenze che avrebbe portato uno slancio ci sta in qualche caso anche in questi territori ci sta devo dire io poi figurate sono di origini di Ascireale di Catania quindi ho vissuto anche un certo sviluppo di questi ultimi 15 anni e riconosco che c'è moltissimo poi questa è una terra dove il turismo è infinito gli amici calabresi non so se sono presenti poi passi la costa già la cosa lì è più complicata eppure il mare è lo stesso non è diverso quindi c'è una laboriosità meravigliosa sul territorio siciliano quindi poi bisogna anche verificare le attitudini i caratteri cambiano come quello che parla tanto e racconta quindi va tutto un po' legato anche ai territori però come sistema è innegabile che non c'è stato quel volano quindi il mio rimprovero non è tanto che non ci siano stati degli strumenti efficaci fino a un certo punto ma certo che sono stati però avrebbero dovuto generare sviluppo quello sviluppo in parte si è generato ma per gran parte no anche per gli egoismi di qualcuno che ha trattenuto a questo punto il motore di quello sviluppo a livello di nord e centro io devo dire se devo essere sincero un elemento interessante del voto delle europee è che la Lega ha preso un sacco di voti al sud e questo volenti o non volenti la responsabilizza perché quando uno prende voti poi dopo deve dare delle risposte e quindi anche se uno magari non era quello l'obiettivo tuttavia l'aver preso dei voti significa che non esiste più la Liga Veneta la Lega No non può esistere perché poi anche i dirigenti politici che sono stati eletti non è che sono del nord che sono stati trapiantati qua sono persone che magari già facevano politica territori questo è un punto molto interessante grazie davvero per questi spunti che ovviamente sono una base poi per andare avanti penso non mettiamo dei punti fermi in questi nostri dibattiti solo piccole battute discontinuità già c'è stata è evidente perché poi anche chi ha fatto questa riflessione non parlavamo di quel tipo di discontinuità non si parlava della discontinuità partitica politica si parlava di una discontinuità rispetto alle responsabilità nella gestione della cosa pubblica che ovviamente non ha un colore politico qui davvero conta molto l'etica nessuno può fare le pagelle ai governanti se non quando conosce direttamente i fatti noi tante volte i fatti non li conosciamo quindi non possiamo neanche fare a colpi di slogan però certamente se uno vede a livello di sistema i provvedimenti tanti provvedimenti di tanti governi non hanno rappresentato un focus sul bene comune perché non hanno poi risolto soprattutto i problemi legati al bene comune allora siccome mentre le associazioni possono permettersi il lusso che è un lusso di fare dei bei progetti del bene comune limitati a circoscritti a un piccolo territorio e propri associati a una realtà e quando invece si incarna il potere dello Stato lì non è che si possono fare le cose solo per un pezzetto o per un altro pezzetto bisogna farlo per tutto il sistema se noi andiamo a verificare i provvedimenti e non possiamo entrarci adesso raramente abbiamo avuto dei provvedimenti che invece hanno avuto una ricaduta omogenea su tutti gli interessi degli italiani sono stati spesso dettati da interessi particolari un po' perché la politica è molto debole i parlamentari diciamo così sono spesso inclini ad assecondare interessi di parte per magari poi avere dopo un po' di consenso quando si ripresentano alle elezioni il che per certi versi può anche andare bene perché i partiti hanno sempre fatto così però i partiti lo facevano a 360 gradi invece adesso abbiamo certe volte gli interessi dei più forti che hanno un riscontro a livello parlamentare italiano e a livello parlamentare europeo perché lì ci sono delle sedi di lobbying illecito non stiamo parlando di cose illecite che hanno delle sedi stanno lì hanno dei professionisti pagati per andare a portare il loro progetto di legge perché come è fatta l'Europa che è fatta male da un punto di vista di come nasce un progetto di legge perché il progetto di legge nasce in seno comunque al potere esecutivo e non al potere parlamentare in Europa e quindi è evidente che nasce in seno ad una persona non a una discussione poi dopo arriverà pure al Parlamento ma questa è una di quelle deformazioni su cui bisogna modificare non so se poi il presidente Tagliani ha parlato anche di questo e l'altro tema che mi sembra interessante è legato all'economia civile anche l'educazione all'ecologia cioè come si fa allora noi qui abbiamo veramente dei diritti perché c'è un articolo della Carta Costituzionale che voi conoscete che è l'articolo 118,4 che dice che le amministrazioni pubbliche lo Stato gli enti locali favoriscono tutte le iniziative dei privati anche in modo associativo finalizzate all'interesse generale è è un diritto dovere e fate attenzione che quando diventa un diritto dovere poi è colpa nostra se non lo esercitiamo cioè non è una cosa che ci cade dall'alto perché nel momento addirittura la Carta Costituzionale ci ha scritto secondo questo principio di sussidiarietà che tutte le realtà sociali associative cooperative hanno il diritto di poter fare iniziative di sviluppo di interesse generale e hanno il diritto che lo Stato le favorisca attraverso evidentemente servizi velocizzazioni burocratiche protocolli magari pure qualche aiuto economico e se uno non lo esergi da questo diritto poi non è che ci possiamo lamentare ma come si fa a esercitare questo diritto beh alla fine si possono dire anche le vie giurisdizionali a un certo punto un'amministrazione sta ferma gli si chiedono una serie di aiuti per mettere in piedi un bel progetto e non lo fa noi abbiamo le possibilità di andare davanti alla giustizia amministrativa e a questo punto chiedere l'adempimento di quell'amministrazione che addirittura non sta adempiendo un dovere costituzionale quindi tante volte quando uno chiede ma come si fa come si fa bisogna semplicemente esercitare i propri diritti ovviamente non è che si va subito davanti a un giudice ci mancherebbe altro però si fa capire come il tema della dignità e la dignità uno riesce in qualche modo a farla percepire agli altri se c'è la fine in fondo se c'è la bene quella consapevolezza e se qui uno non ha la consapevolezza dei diritti che ha è evidente che sembra che sta facendo semplicemente attività così di solidarietà tanto per no le sta facendo dentro un progetto di bene comune nell'interesse di tutto lo Stato allora su questo insomma la col diretti altre realtà lo utilizzano fino in fondo questo articolo 118,4 che è stato introdotto ormai parliamo da 15-16 anni 17 anni cos'era nel 2001 mi pare che era la riforma costituzionale quindi per dire che certe volte gli strumenti ci sono e ci devono essere poi su come riuscire a recuperare invece una continuità con gli ideali stursiani io sono straconvinto che siccome qui un po' la passione politica l'impegno anche le competenze ci sono tutti ripeto il momento trascendente è decisivo non lo dico a persone che non hanno quella vocazione invece all'impegno sociale ovviamente se lo dicessi a persone che non hanno vocazione all'insegnamento sociale gli dovrei dire un pezzo in più che non basta semplicemente del trascendente ma invece lo dico a persone che già hanno quella vocazione e quindi quella traversata del deserto è lunga non è breve è lunga ed è bene che noi col sorriso sulle labbra la facciamo fino in fondo quella traversata non dobbiamo affrettarlo quel passaggio proprio perché tanto essendoci quella passione che viene fuori via via che viene fuori riusciremo anche a governarla nella strada nella direzione giusta tanto più ci sarà stato un discernimento e il discernimento si raggiunge soltanto se si ha questa consapevolezza anche ispirata non dobbiamo